Ciao Marci, so che Steph ti ha messo in difficoltà, ma adesso tocca a me, quindi buona fortuna! Nooo, non di nuovo! Non di nuovo! Questa volta Fere ci ha rinchiuso in una bottiglietta di vetro e devo cercare di uscire e penso che il mio timer inizierà proprio adesso. Vediamo quanto abbiamo di timer. Abbiamo 18 minuti e raggiungi il tappo e spacca un blocco di legno. Ok, molto interessante, quindi immagino che abbiamo delle sfide da fare per provare ad uscire da questo posto. Che cosa mi conviene prendere? Mi sa che mi conviene prendere del legno perché ogni blocco sono 4 blocchi, quindi secondo me faccio decisamente molto molto prima. Quindi prendiamo più legno possibile e dirigiamoci verso il tappo della bottiglietta. Mi fa pensare a delle cose veramente molto belle questa bottiglietta. Per chi ci segue da tantissimo tempo sicuramente lo sa, noi avevamo fatto una serie dentro la bottiglietta proprio con savefere ed era uno spettacolo incredibile quella serie. Ora saliamo subitissimo, ragazzi. Ce la farò con 60 blocchi. Beh, direi di sì anche perché se no sarebbe un gran bel problema come cosa. Guarda che forse me ne bastavano molti di meno e potevo evitare di fare tutto sto casino. Intanto là c'è una cesta segreta che me ne sono appena accorta, ragazzi. L'avete vista? Vediamo un po'. Craft 3 TNT, wow! Ok, questa l'abbiamo fatta. Vediamo se riesco a non morire, non morire e non sono morto. Cosa c'è in questa cesta? C'è un debug stick. Potrebbe servire a qualcosa questa cosa. In caso ce lo teniamo. Vediamo se c'è qualcosa qua dentro o no. Ma per fare le TNT sicuramente dobbiamo andare in caverna. Vediamo se c'è una caverna nelle vicinanze che si può raggiungere. A me non sembra, amici. Non mi sembra proprio. Quindi facciamo così. Dobbiamo farne esattamente, abbiamo detto 3. 3 vuol dire avere 4x3 blocchi di sabbia. Quindi prendiamone giusti giusti, almeno possiamo direttamente fare. La 9, 10, 11 e 12. Vediamo se siamo a posto. Assolutamente sì. E direi di tirare subito giù per vedere se troviamo una caverna con dei piccoli creeper. Ormai ragazzi quando dobbiamo fare qualcosa di fere all'interno di Minecraft c'è sempre TNT o diamanti. Eh sì 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 sì. Assolutamente. Prendiamo giusto un pochettino di carbone e sento anche che ci sono dei piccoli mob nelle vicinanze. Quindi avviciniamoci anche a questi mob. Mi sembra, non capisco se sono sotto o sopra. O a destra, raga. Non ci sto capendo niente, raga. Ve lo giuro che... Oh, ciao ragazzi. Come state? Tutta bene? Vediamo un pochettino. Ok, non c'è niente. Però dobbiamo trovare anche 23 pezzi di ferro. Ciò vuol dire, ragazzi, che dobbiamo anche cuocerli. È interessante questa cosa. Ogni tanto ci sta che bisogna cuocere le cose. Allora, quanti ne abbiamo qua? Arriviamo ad averne, secondo me, già un 8-9. 8-9 secondo me ci arriviamo. Mettiamoli subito qua. 9. Perfetto, ragazzi. Perfetto. E ci sono dei creeperini qua. Piccolo creeper, guarda. Se tu vieni qua, mi fai anche un gra... Perché sei esploso? Ma chi te l'ha detto che potevi esplodere? Scusami. Facciamoci avvicinare un po' di più, che è meglio. E gli do un bel colpo lì. No, 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 non esplodere. Creeper! E insomma, però, non si fa così. Ok, ci sono tanti... Ci sono troppi mob, raga, per i miei gusti. È questo il problema. Il problema è proprio questo, che ci sono troppi... E questo ha pulito tutto. E niente. E niente. Piccolo scheletro, no, no, non mi fa esplodere il creeper. No, 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 no. Eh, raga, non so cosa dirvi. Sta esplodendo tutto qua. Porca paletta. Vabbè, era il momento per, diciamo, pulire un po' la zona. Aspetta, adesso devo vedere se c'è ancora qualcosa. Dannata, Fere. Cosa mi fai fare? Cosa mi fai fare? Dove sono i creeper adesso? Prima ce ne erano 70 ordici. Eccole qua. Penso che lo spawning dei creeper sia comunque aumentato, raga. Eh, no, non è morto, raga. Aspetta un attimo, che qua la situazione è un po'... Niente, esplodono tutti. Ho capito, ho capito io. C'è uno spawner di creeper, probabilmente a me esplodono tutti. Vabbè, che devo dirvi, raga? Spacca 256 blocchi. Sono tanti 256 blocchi, eh. Mi sa che lo farò con la terra. Cioè, l'unico che ammazzo non mi dà niente. Incredibile questa cosa. Piccolo creeper, vieni. Vieni, piccolo creeper, non esplodere. Ti faccio un critico. No, 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 no. Perché ce n'era un altro dietro? Perché? Ma niente, niente, sono tutti qua. Questo qui aveva troppato un bel po' di gunpowder, raga. Non so come mai, ma questo ce n'ha dato veramente tantissimo, ok? Dammena anche tu, per favore, un pochettino. Senza esplodere. Niente, questo qui non me l'ha neanche voluta dare, vabbè. Eccola qui, ragazzi. Me l'ha data adesso. Crafta la spada rosa. Uno stick, due coloranti e sei diamanti. Sei diamanti sono tanti. Però intanto abbiamo dieci di gunpowder che sono ottimi. Io direi che a questo punto vado direttamente giù perché magari ci sono dei diamanti un pochettino più giù. E, eh, raga, dobbiamo cercare dei diamanti. Qua siamo già praticamente alla fine. Non mi sembra che siamo alla fine. Però mi sa che da questa parte si scende ancora. Ottimo, quindi scendiamo ancora un pochettino. E intanto prendiamo anche un po' di ferro perché non ne ho ancora 23 sicuramente io. Dammi una caverna con tanti diamanti. Aspetta che magari mangiamo e via. Fai uno scambio con un villager. Ok, le missioni di adesso sono letteralmente più facili. Ok? Buongiorno. Salve! Salve, salve. Uno, due, tre, quattro diamanti. Ragazzi, attenzione. Uh, qua ce ne sono ancora. È buono questo, eh. Aspetta un attimo che qui la situazione non è delle migliori. Non so neanche a quanti blocchi siamo spaccati, eh. Adesso guardiamo tramite il libro. Quanti ce n'hai di diamanti qua? Solo uno? Che dici? Allora, questo possiamo farlo. Ottimi, tre lingotti, lo possiamo fare. Mucche, ok. Qua abbiamo già spaccato un po' di blocchi. La red se me la prendo che sia mai che serve a qualcosa. E vediamo un attimino se c'è qualcos'altro qua nelle vicinanze. Sennò mi tocca scavare. Ho sentito un mob. Ho sentito un mob. L'ho sentito. Quindi vuol dire che qua c'è un'altra caverna, raga. Sarà un creeper. Vediamo. Craft a due mele d'oro. Ok, io di ora non ne ho ancora... Diamanti, vedi, te l'ho detto io! Io te l'ho detto che c'erano i diamanti. Eh, Marce è furbo, eh. Con i diamanti, ragazzi. Eh, diamanti non possono nascondersi da me. L'unica cosa che mi preoccupa, però, effettivamente, è l'oro. Cavolo, l'oro ne serve tantissimo. Per fare due mele d'oro ne servono sedici. Dove li trovo sedici di oro, raga? Sono tantissimi sedici di oro. Aspetta, che qua sono caduto nella lava. Mi riesco a salvare? Dimmi che mi riesco a salvare, per favore, per favore, per favore. Ok? E di oro comunque neanche l'ombra, eh. Non per dire, ma di oro neanche l'ombra. Ok, però di ferro qua ce n'è parecchio. Quindi prendiamo tutto quello possibile. Sto morendo? No, che non sono morto. Ottimo. Quanto ferro ho in questo momento? 23, giusti giusti. Mi sembra l'ideale questa cosa. Ne prendo giusto qualcuno in più che magari può servirmi dopo. Però devo trovare assolutamente e necessariamente dell'oro. Eh, siamo morti ma abbiamo fatto una missione, raga, eh. Abbiamo fatto una missione del debug stick che era quello che avevamo cercato, raga. Quindi mettiamoci subito al lavoro. Perfetto. Mi sono chiaramente fatto killare. Allora, come facciamo qui? Bisogna fare sicuramente una fornace. Direi almeno tre fornaci che sono ottime. Ne ho fatte due, però vabbè. Niente, che devo dirvi. Mettiamo a cuocere qua. Ne mettiamo due. E qua ne mettiamo altri due. Sicuramente così. Poi facciamo subito le TNT. Quindi TNT. Ne possiamo fare tre. Ed ecco qua che abbiamo completato anche questa missione. Poi dobbiamo... Craft tutti i tools in pietra. Ok, questo lo posso fare immediato a subito. Quindi dobbiamo fare spada. Dobbiamo farci la pala. Dobbiamo farci il piccone. Dobbiamo farci l'accetta. E dobbiamo farci questo qua. E dovremmo averli fatti tutti. No, mi manca qualcosa. Cosa mi manca? Ho fatto pala. Cosa mi manca, raga? Sono cinque. Mi manca... Oddio. Sono stupido? Mi manca qualcosa. Vediamo un pochettino se me lo dice. Craft tutti i tools in pietra. Ah, e legno. Cavolo, non l'avevo letto. E legno, mannaggia. Va bene, raga. Si può fare. Si può fare. Qui facciamo così. Almeno già ce ne facciamo un po'. Piccone. Piccone fatto. Poi ci possiamo fare la zappa. L'abbiamo fatta. Ci facciamo anche questo qui. L'abbiamo fatto. Ci facciamo la spada. Ci manca solo e unicamente la palettina. Sì, abbiamo fatto anche questa missione, Fere. Grandissimo, Marci. Ok. Abbiamo fatto tutto. E ora tutta sta roba la buttiamo via. Perché come consumo una pala in legno? Ma questa... Questa è cattiveria comunque, raga. Questa è veramente cattiveria come cosa. Secondo me non ce la facciamo a finire in sette minuti tutto. Però poco Mario. Allora, dobbiamo consumarla tutta. Intanto io direi di consumarla qui con la sabbia. Perché il mo... Anzi, no. Qua, ragazzi. Con questo dovrebbe consumarsi molto più velocemente. Eh, sì, raga. Con questo si consuma molto più velocemente. Vai. Guarda, guarda che dovrebbe consumarsi. Perché non si sta consumando? Non si consuma? Ma non si consumava così, raga? Scusatemi. Si consuma solo con i blocchi, mi siete dicendo. Eh, mi sa di sì, raga. Oh mio Dio, sette minuti non c'è... A parte che il timer è un po' lento, se devo dire la verità. Guardate quanto... Quanto va lento. Mi sa che stava laggando un po' il server. Vabbè, meglio per me che ho più tempo per completare. Però questa pala qui... Ah, ci vuole tantissimo per finirla. Io odio queste... Ditemi cosa odiate di Minecraft. Adesso vi fermate. Ci fermiamo tutti. E nei commenti inserite cosa odiate di Minecraft. Editor, per favore, scrivi un messaggio così. Cosa odi di Minecraft? Dai, che l'abbiamo finita questa. Ok, cammina 500 metri. Ok, questo è veramente tanto. Però io posso scambiare col villager, secondo me. Vediamo un po' cosa chiede lui. Chiede le bitroot. Ma io i bitroot dove li trovo, ragazzi? Ma io non ne ho così tante. Ma porca paletta. Sta rubando tutto lui, eh? L'ho visto che stava rubando tutto lui. Vediamo qua dentro se c'è qualcosa. Smeraldi. Ok, scambio con gli smeraldi. Faccio prima. A sto point. Allora, dove sei? Dove sei, piccolo farmer? Sì, vieni qua! Sì, dammi del pane. Ottimo. Dovrei avere anche del grano. Facciamo avvicinare questa piccola muccherellina. Ah, qua ce ne... Vabbè, ce ne sono due vicine lì, quindi faccio prima così. Ciao amiche. Una e due. E abbiamo fatto anche questa missione qua. Ottimo. Ah no, due! Porca paletta. Meno male che ho visto, eh. Vieni, vieni qua. Vieni qua, campionessa. Vieni, vieni qua. Anche tu. Dove sei? No, no, pecora. Tu no. E no, tu no. Vieni, avvicinati. Sì. Una e dos. Dai, unitevi. Accoppiatevi per bene e fatemi completare la missione. Bene. Poi, i lingotti di ferro dovremmo averli fatti, secondo me. Vediamo un pochettino. 13 e 14 abbiamo fatto anche questa missione qui. Poi due mucche. Perché non me la dà? Me la dà rossa, ma l'ho fatta. Ehm, ok. Spacca 256 blocchi. Ci siamo. Ma penso che, secondo me, lui conti anche questi qua. Vediamo. Spacchiamone un pochettino. E vediamo se me li conta. Vediamo un po'. Spacca... Sì, li conta, raga. Bene. Bene così, raga. Questa cosa è veramente ottima. Almeno io posso approfittarne e spaccare questi blocchi qui come blocchi da costruzione, diciamo. Anche se non sono blocchi da costruzione reali. Vai, ci siamo. Direi che ci siamo, ragazzi. Direi che ci siamo. Mancherà tipo pochissimo. Ok, fatta anche questa. È una corsa quanto è il tempo. Cammina 500 metri. La possiamo fare subito. Intanto però faccio. Craft to the... E le mele d'oro, raga, sono un disastro. Io perdo per le mele d'oro palese, raga. Perdo per le mele d'oro palese. Perché non so dove posso trovare 16 pezzi d'oro. O che sono tutti vicini. Ecco, il ragazzo mi aveva dato un indizio prima del video. Mi fa occhio che c'è un minerale che è tutto assieme in caverna. Però non so se intendeva diamanti o oro. Ok, non ne ho idea di questa cosa. Va bene, va bene. Ci siamo, raga. Va bene lo stesso. Qua spacchiamo tutta sta roba qui così dovrebbero cadere piano piano delle mele. Ok, spacchiamo tutto. E vediamo come si è messi con le altre missioni. Ce n'è un'altra che era? Le mucche non me la contano. Non capisco perché. Craft, la spada rosa. Uno stick. Due coloranti. Sei diamanti. Che colorante devo mettere, scusate? Uno qualsiasi, ragazzo, serve. Me lo potresti scrivere, per favore? Cos'è me non so se vanno bene qualsiasi colorante oppure no. Quello rosa. Quello rosa come si fa, scusate? Non so come si fa. Bianco e rosso, giusto? È bianco e rosso? Eccolo qua. Pink, dai. Bravissimo, Marci. Allora, ci serve uno stick. Colorante rosa, due. E sei diamanti. Vediamo se è vero. Eccola qua. La spada di fere. Che bella che è, mamma mia. Ok, ci mancano solo due missioni. Quella dei passi e quella dell'oro. Allora, ragioniamola così. Nella mesa, in genere, quindi qua sotto, dovrebbero esserci dei diamanti, dell'oro. Però l'oro non lo vedo. Magari qua sotto c'è qualcosa. Non ne ho idea. Ragazzi, dimmi che almeno la mia suppos... Fere avrebbe fatto la stessa cosa. E non dico il contrario. Bene, cerchiamo di trovare quest'oro qua, ragazzi. 3 minuti e 55. Ragazzo, server, ti confermo che non mi dà la missione delle mucche, eh. Spero che me la conti lo stesso. Oh, mamma mia. 3 minuti e 40 per l'oro. 16 pezzi. Sono tantissimi, ragazzi. Oh! Oh! Ecco cosa diceva lui! Qua ce ne sono solo 4, però. Eh no, raga. A me 16 come faccio ad arrivarci a 16 se qua non ce ne sono? Eh no, ragazzi, eh no. No, 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 si esplodi, esplodi, creeper. Bravo, creeper. Bravissimo, creeper. Qua c'è l'oro, raga, l'ho visto. Qui c'è un sacco d'oro, però ci sono i creeper. E abbiamo solo 2 minuti. Non bene questa cosa. Creeper, esplodi, per favore. Bravissimo. Mangia. Cavolo, raga, siamo veramente in ritardo, secondo me. Ok. Ah! Qua ce n'era ancora di più, raga. Porca paletta. Ce ne servono altri 8. Secondo me ce la possiamo fare molto al pelo. Ma ce la possiamo fare. 15, 16. Ok, ora devo morire. Dove sono i tizi per farmi morire? Dai, ma prima c'erano 60 mob e ora non c'è nulla. Dove sono? Li sento. Dai, ti prego. Dove siete? Ma io posso spaccare la bottiglietta e buttarmi il vuoto? Penso di sì, vero? Eccolo! Ammazzami, ti prego! Sì, sono morto! Ottimo, ragazzi. 2 minuti e 10. Oh, mamma! Metti a cuocere tutto questo. Questo ne mettiamo a metà dall'altra parte, così facciamo anche prima. Le mele sono cadute. Non sono cadute le mele, raga. Non c'è neanche una mela. Non ci posso credere. No, raga, non c'è neanche una, mi state dicendo. Zero? Ok, qua ce n'è una. Ottimo. Non ce ne sono altre, raga. Eh no! Aspetta, nelle ceste lì c'era qualcosa? Non ho guardato se ce l'hanno delle miele qua. Niente. Ne ho due! Ma ne ho due, raga! Ma ne ho due! È tutta questione di tempo adesso. È tutta questione di tempo e possiamo uscire. Allora, buttiamo via tutta sta roba qua. Buttiamo via tutto, buttiamo via tutto, raga. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Quanto siamo? 10. Ne posso già craftare una? Facciamola. Porca miseria, ragazzi. Ok, vediamo un po' come si è ammessi. Eh no, ma... Ah no, devo camminare anche... Devo camminare anche 500 metri. Devo camminare. Devo camminare o va bene anche correre? Spero che vada bene anche correre. Non devo saltare, secondo me. Quello sicuramente. Vediamo se sta salendo. 388. No, non sale, raga. Forse devo... Ah, devo proprio camminare e basta? Devo camminare, raga. Non ce la farò mai. Non ce la farò mai. 37 secondi. A 5 secondi faccio la mela d'oro. Porca paletta, raga. Non ci voleva questa cosa. Al pelo. Se ce la facciamo, veramente al pelo, ragazzi. Sì, veramente al pelo. Vediamo quanto siamo. 471. Ok, no, non devo correre. 19 secondi. Dovremmo farcela, raga. Dovremmo farcela. Ti prego. Ti prego. Ok, l'abbiamo fatta. 1, 2. Solo quelle che si possono fare. Mela d'oro. Fatta. Abbiamo fatto tutto. Non mi conta la sfida. Questa game l'abbiamo fatta. Fai... Vedi, 2 di 2. Possiamo uscire. Possiamo uscire. Siamo usciti. Sì. Sì. A un secondo dalla fine. Non ci credo. Non ci posso credere. Guarda quanto oro c'era. Mamma mia. E adesso come... Cioè... Rimango per sempre in questo mondo o... Ciao. 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 Ciao.